Sei innamorato di me? Credo di sì. E com'è successo? Un giorno ti ho vista a scuola e poi... mi interessava come camminavi. Mi prendi in giro? No, no, non ti prendo in giro. E secondo te io ti amo? Non lo so, senti, ma oggi il preside che ci aveva da ridere... No, 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 aspetta, rispondi. Io ti amo. Non vedo perché, veramente, è perché. Lo vuoi sapere? A questo punto sì. Allora, prima di tutto perché fai domande ossessive fuori luogo a una signora. Come se fosse una cosa normale. E chi sarebbe la signora? E poi... e poi perché sei buono. Io. Sì, tu sei un uomo buono. Ma che discorsi! Ma sei impazzita! Io buono! No, 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 aspetta, vieni qua. No, davvero. Non so come spiegartelo. Ma tu... Tu non mi puoi fare del male. Ma che ne sai? Lo so. Beh, io invece non lo so. No, no, no. No, no.